Il territorio sta cambiando velocemente e con esso sta cambiando anche il clima. Bisogna prendere coscienza di queste dinamiche, anche perché si tratta non solo di mettere in sicurezza le persone e le cose, ma anche per una questione di opportunità di avviare delle economie legate alle risorse locali, che sono economie strettamente legate alla storia, alle tradizioni e alle competenze dei luoghi. Non è solo una questione di valorizzare le peculiarità di chi vive e chi vuole continuare a vivere in questi luoghi, ma si tratta anche di dare un valore aggiunto e un giusto reddito ad attività che possono da diversi punti di vista essere preziose per il territorio, perché aiutano a creare e a mantenere comunità, ma anche per sviluppare delle nuove imprese che attraverso le nuove tecnologie possono essere importanti per il futuro e per le comunità di questi luoghi.